Tutti i temi che vedremo di far passare, e se da una parte delle lezioni è meno obbligatoria le altre lezioni, erano prospettati, la famiglia, il lavoro, tutti i temi di valore persone, il lavoro è quello che non c'è più, quello è quello che faccio, perché dopo la vittoria che mi ha fatto l'altro ieri, alla televisione, quando ne è stato tre, e dicevo io e te che siamo, scusatevamo che tutto il mondo è lo guidone, e dicevo, altrimenti tutto, ma anche te dove è la gioventù che è, e sono considerazioni che si mettono solamente in musica, e dice qua la musica, e lì sta in musica, va dal giudice che può trarre un acclimatatore di emozioni, per cui posso indirizzarli a seconda di come ha scritto il testo, come meno queste parole che vuol mettere in musica, in musica, e quindi per cui per cui vediamo più facile, io do la mia lunghezza di cose, di esperienza, ci vogliono tante cose, ci vogliono, ci vogliono per potersi preparare, per potersi andare a confrontarsi con dei ragazzi, è più facile fare un corso di patologia e fisica, o di, dicono, o sull'immigliano Zapata, queste cose che invece, per me, sarebbero facilissime, sarebbero forti, oppure non vado niente, ed è interessante, l'ho venuta ieri, e... per essere gay, faccia da un po' l'altro che non l'ho mai visto il mondo, e l'unico, a sapere, con tutto l'altro scontro, ecco, uno c'è queste idee qua, dici, ma... se... 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 se voglia niente, ma... io lo so, benissimo, come la suoneresti? io non so, sai, come vedo io, oppure la suonerei così, e così si impara una cazzetta, riguarda il lavoro, riguarda la sua mentalità, dove vogliono approcciarsi, e... e... e quindi, poco per volta, gli vengono... aggiustati dei canoni, e via... oltre a che volta, lui... eh... cambierà, perché... avvicinerà, avverete tra se e se, la dialettica del suo essere... normale in tutto il mondo, una dialettica anormale, e... che poi, magari, viene da una psicose, o di me, verrà di coeranza, però... questo sarà il lavoro... quali... mi accingo a fare... non sarà difficile, perché io... è un periodo che... non ho... non ho... non ho malinconia, cioè, no... grazie a Dio, con la terza età, si... si è, appunto... di essere molto più... capace, diciamo... non si va vicino a... ai giovani, agli altri, ecco... eh... se si è... depresso, malinconico, se si entra... si è del mondone che non... ecco... andiamo... in giro il professor Ettore, che si è... fascistoide... e... magari... ripetiamo anche... quale che sia di moda... allora... ehm... questo è quanto, insomma... dilungati su... le tematiche sono... saranno molto... molto... variabili, perché... eh... ma saranno sempre... non è che un giorno... no... tutte le volte che... farò fare delle prove... le farò fare... che so... eh... ai ragazzi... ma da subito, perché... prendono... prendono... confidenza con la... con... con me... quindi... un po' questo è il loro... due... 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 di sviluppare... eh... che riguarda... il lavoro... la famiglia... l'amore... l'amore per... per... un uomo... l'amore per una donna... lui dice... Dio... ma Dio è amore... allora... sì... Dio è amore... però... non so se... si stava... quello che succede... io... non è che... ma se un altro... sono... proprio... un uomo... ma se un altro... ora... quello che succede... dopo ti bacio... eh... e comunque... cioè... si deve essere... questa... questa... non viene poi niente... certo... non so se sei d'accordo... sarà un lavoro... didattico... del fare... quindi... dall'esperienza... dall'esperienza... quello che si spera... io spero che... Enzo accetti... e ciò che faccia... scrivi una canzone... come Enzo e Iannacci... cioè... insieme... bellissimo... contatto... dalla sua esperienza... quindi... intanto... realmente... tutto da qui... con me... è tutto... Grazie a tutti